Dio ci è accanto anche nei momenti in cui ci sentiamo soli, soprattutto quando siamo tentati di arrenderci alle difficoltà della vita. È una certezza quella che il Papa offre all'Angelus. Francesco esorta a respingere la tentazione di considerarci sicuri di noi stessi facendo a meno di Dio, perché quando poi ritroviamo il coraggio di riconoscerci per ciò che siamo, scopriamo le nostre fragilità, debolezze e paure. Questo spiega perché tante persone, cercando una via di uscita, imboccano a volte pericolose scorciatoie, come ad esempio il tunnel della droga o quello della superstizione o di rovinossi rituali di magia. È buono conoscere i propri limiti, le proprie facilità. Dobbiamo conoscerle, ma non per disperarci, ma per offrirle al Signore. E Lui ci aiuta nella via della guarigione, ci porta per mano, ma mai ci lascia da soli, mai.